E' bella a tutti i malati, qua è Matthew e oggi siamo pronti per l'esplorazione e ho scoperto che la Safari Net si fa con la Ghast Tear e quindi vuol dire che dovremmo andare e picchiare un diavoli... un diavolo di Ghast, chiamiamolo così. Con la spada dovrei farcela, il fatto è che il Ghast con la render distance che ho, devo proprio sento prima i rumori che vederli in pratica. Ehm... beh, comunque... Gesù Cristo! Forse anche c'è sempre l'accendino con me, che può sempre capitare, tipo che la mia spada riesce a distruggere i portali infernali. Capitano ogni giorno. Allora, a me mi dà l'idea che la fortezza possa trovarsi qua intorno. Scusate il lag, ma è normale. Non sono mai, non ho mai esplorato così tanto il Nether. Uh, la cosa di slime lavici! Una volta ci sono morto lì! Quella che penso, perfetto. E guarda lì sotto cosa c'è. Mi è molto piaciuto come mi ha droppato la... la sua lacrima. Ho ucciso un santo Cristo di Dio d'Isla di Ghast a mani nude. Ho sentito... Ti ho sentito... Ti ho sentito, ti sento, dove sei? Ti ho sentito... Ecco ti Ok Ok è stato il pvp più eccitante della mia vita aspetta che i brick me li impara perché questi serviranno per fare delle belle cose senti blaze non ci sarà niente vero? oh no invece c'è il void crystal something machine upgrade non ci sarà niente Ciao Si Non penso Non si fa così Gesù Cristo Ho perso una quarantina di anni di vita Però non c'è neanche un Oh questi qua Niente Ciao Sarà un Questa non l'ho lottata No però Batto Wings direi che tipo Mario 0 Mario 0 Cos'era quello? Cosa ho visto un Enderman? Era la testa di un Enderman? Oggi sono stato inquietantissimo Cosa ho visto un Enderman? Abbiamo visto un Enderman? No 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 Vorrei tenermi come dire vorrei tenermi la qua la roba per più avanti ok mi ero dimenticato che esisteva questo touch ok adesso spawnano di blaze però a me interessa solo trovare i wheeler perché tanto lo spawner di blaze l'ho preso con la draconic lo posso stabilizzare ah questo spawner shaft hard perfetto ehi tu la tu mi darai la testa mmm se tra un po' non posso più saltare non mi difenderà dai danni da caduta strana che non mi droppino le teste pure lo zombie tipo me l'aveva droppato ciao uh uh ma dai sai che lo farò con una beh che la nether star lo posso fare anche più avanti un po' non mi ah non ah 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 ok ok niente un deschio di weaver capita purtroppo capita questa cosa è capitato a me questa roba speciale allora gli devo far imparare questo 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 lo devi imparare questo 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 mi serviva per la safari queste sono cose interessanti ma aspetta che forse ce l'avevo avevo ah vabbè queste cose qua ho parla Poi c'è il Sì, te ne puoi andare C'è Il mob duplicator Due smeraldi, due magma Sono stupido Non ci sono altri modi per averla, vero? Ah, c'è quello delle uova I funghi? Non è proprio funghi? Me l'ho trovati? Mi sembra di no Ma Ah, ok, ecco Non la nuoce, dare un'occhiata E infatti, ok, ho visto bene Mi sono ricordato proprio bene Eh no, eh no Quando non ho la spada Sempre davanti a casa Stai, te Sei un camper Beh, tornerò dentro A fare Aspetta Ries Uff Uff Ok, adesso Sappiamo anche questo 3136 Il simbolo vale 49 Mentre il bom meal vale 48 Uno in più vale la soul sand La sabbia è, sì In pratica è piena Sì E' un po' di 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 ... ... ... ... ... ... sono 6 già è più veloce vabbè qua sono quelli tutti a 10 ancora sta facendo il call a proposito dopo ci penso cosa posso fare allora serviranno i gialli che adesso non so però come colorarli le galline ecco se avete qualche idea ditemelo nei commenti perchè io non lo so c'è il black quartz anche ah 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 logico effettivamente sono io che sono stupido però quelli colorati ho provato a colorarli proprio col colorante in testa ma niente non funziona così bensì però adesso devo andare un attimo devo fargli imparare il nether ok ho trovato un modo per portarmi tipo l'energia dietro che sarebbe molto carino con quanta precisione con quanta precisione non è una spedizione è difficilissima ho incontrato un sacco di difficoltà vabbè ragazzi è normale la vita è così ci divertivano di più quando esplorare la twilight forest anche più ragazzi che non me lo dimentico mica il nostro caro amico altro mondo che magari se c'è noia poi potrei anche provare a aggiungere qualche altra dimensione più difficile tipo l'abyssalcraft e industrialcraft qua due smeraldi due magma block quante cose mi servono lì a una posto due magma block uno due due smeraldi machine case quattro di ferro quattro di legno e un blocco di resto a uno di redstone lol e questo qua ha bisogno della fluid essence che non è questa questa è la tex ci vuole il directionary fluid converter quella roba lì fluid dictionary converter 3 di plastica, un steel chasing, allora 4 di vetro, uno di osmin, 4 di questi, e il coso di vetro. Poi mi serve un Iron Gear 2 Bucket, 2 di vetro, nella plastica ce l'ho, 2, se io faccio allora un Block Placer, un Placer, allora un Basic Coil, 7 di Cobblest e uno di Palis, Cariano, Carino, 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 esattore, Carino, 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 aricando il ruolo, Carino, There, Quattro di queste, questi, questi, poi c'è, e poi questo va dentro il free dictionary converter, ok, a parte che se uso il placer non mi serve quella roba la, direi che è meglio se inizio a sistemare, perché lo sistemo durante un video, ah, due stack decent, e altre tante di cose, tanto inizio a fare, terrible fortress into fire, io comunque sto facendo tipo una serie di episodi uno dietro la, che, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti stai divertendo anche te, vedo. Mi pare che gioca a Gears of War fa morire. È tipo qualche capitolo dietro di me, però vuole raggiungermi secondo me. Si, davanti al castello forse. E me da castello, si, si. Ok. 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 Ok Sembrano anche le cose delle lanterne in giro Sembrano anche le cose delle lanterne in giro Sembrano anche le cose delle lanterne in giro Ok Quando sto durando? 31 minuti Vabbè finisco questa roba qua Dopo ci sono Ok Ok Azzo Azzo mazzo Trebbe essere un problema Richiede E l'XP liquido Ed è per questo che mi sono tenuto questi qua Non so se posso proprio Metterlo lì Tipo farlo sciogliere in modo Boh No Eh infatti Dovrò scoprirlo Vabbè comunque Non so esattamente Sono andato per esplorare un paio di cose Giusto Ormai mi dimentico anche io Il programma di miei stessi episodi Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate mi piace Se vi è piaciuto Perché vi è piaciuto di sicuro E O Gesù Cristo E La luna delle poche cose Che vi posso dire Grazie perché Mi immagino già Lo zero Il zero sostegno Che mi state dando Nei commenti In tutti i video Sto facendo Sto usando un po' E a Prevedere Come andrà Però ormai Sono abbastanza Pratico di queste cose Quindi So già come andrà a finire Le serie lunghe Di solito Su quelle che non cagano mai nessuno Sono troppo lunghe Infatti sto pubblicando Gli episodi molto piano Perché io sono tipo Sono quasi al decimo episodio Ho pubblicato il quinto L'ho raddoppiato È un problema Per Per chi registra Principalmente Perché devo Intuire quello che Mi piacerebbe vedere E non è sempre Troppo semplice Comunque Penso che Questa roba qua Ormai Sia a posto C'è un po' Di MC Usiamone un po' Ma un pochino più veloce Vado a dare un'occhiata Qua Due Dark Matter Due Dark Matter Adesso vorrei anche provare A farmi Un'ascia Di Dark Matter Ok Avrei bisogno Della Vabbè Farò un'altra volta Tanto dovrebbe funzionare Comunque Fammi provare Non c'è niente Qua Funziona benissimo Quasi istantaneo Vabbè Spero che l'idea Vi sia piaciuto E ci vediamo Al prossimo episodio Bye Bye